Il suo ultimo album è veramente divertente, si intitola Party, che in italiano vuol dire festa ed è una vera e propria festa, ci sono i pezzi dance, ci sono i lenti, c'è tutto pensate che il suo ultimo disco ha venduto più di 600.000 copie questo pezzo è tratto naturalmente da Party, si chiama The Music I Like è lo stacchetto del festival bar e lei è Alexia! La notte come into my life, makes me feel good inside I need a moment of ecstasy, feelin' high in high This is the music I like 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 Grazie a tutti 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 Ciao